Tu sei estremamente sexy, incredibilmente sexy, te lo giuro, perché sai chi sei? Sei una pulicaliente epiteliale. Ma cosa vuol dire? Che è una malattia? Ah no, no, sei eccezionale a letto perché hai, tu provi piacere in ogni parte del corpo, se io ti tocco, mi capisci? Non so, la punta del naso. Se ti tocco le rotule o le falangi, beh, subito ti ecci. Sai una cosa? Sai che mi piaci veramente, mi piaci proprio tanto. Sei fantastico, mi ami, mi ami, perché io ti amo. E ci conosciamo solo da poco. Beh, io certo, credo, probabilmente sì, 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 io ti amo, tu mi ami. Sì, amore è un termine troppo debole per, ecco, io ti stramo, sai, ti adamo, ti abbramo, no, troppo deboli, io dovrò inventare. Ma certo che amo, perché non ci credi? Non lo so.